Nel primo trimestre del 2022 in Italia si sono dimesse volontariamente 519.000 persone e di quelli che non si sono dimessi una buona parte ha deciso ormai da tempo di non coinvolgersi più di tanto nel lavoro. Ma qual è la ragione che spinge le persone a lasciare il posto di lavoro o a contentarsi del minimo indispensabile? A quanto pare non è nello stipendio né le politiche di welfare perché la ragione più diffusa sembra essere la mancanza di opportunità di crescita. La sensazione cioè che nel lavoro, in quel lavoro, non ci sia un'occasione per sé. Eppure non mancano i team building, non mancano gli assessment personalizzati, non manca la gestione automatizzata dei reward. Che cosa serve ancora? Forse abbiamo dato per scontato di sapere il significato della parola crescere e soprattutto abbiamo erroneamente pensato che per farlo il modo migliore fosse puntare tutto sulla performance individuale. crescere condivide la sua radice latina con il verbo creare. Significa cioè creare la propria persona. Ma in che cosa consiste questo processo? Che cosa lo guida? Sostanzialmente in che cosa consiste la crescita? Ultimamente va molto di moda la frase diventa chi sei o diventa la migliore versione di te. Peccato che queste frasi abbiano il grande pregio di suonare benissimo e il grande difetto di essere completamente prive di concretezza, di senso pratico. Quasi certamente i più ci diranno che siamo noi, in un incessante lavoro mentale e analitico a poterci dire chi siamo, a trovare e definire quella migliore versione di noi. Di solito sono anche gli stessi che poi vogliono venderci pacchetti di meditazione tre per due o ritriti in destinazioni esotiche, salvo poi renderci conto che quello che troviamo in quella ricerca isolata di chi siamo è un mix fatto della storia che ci raccontiamo, di condizionamenti esterni senza filtro a cui pensavamo di essere impermeabili, conditi da una buona dose di indecisione della serie oggi dico di essere così, domani penso di essere cosà. E se ci fossimo sbagliati? Se il modo migliore per rispondere alla domanda chi sono e cosa posso diventare, quella tipica cioè della crescita, fosse creare delle condizioni nuove, un contesto nuovo? Quanti di voi hanno visto questa immagine o qualcosa di simile magari con una frase motivazionale scritta in basso nel loro luogo di lavoro? Sono sicura che ci sia ancora qualcosa di simile in qualche sala riunioni. Questa è la classica metafora aziendale del andiamo insieme, uniti un passo dopo l'altro verso l'obiettivo. Ma quanto è verosimile questa metafora? Quanti di noi possono davvero dire che questo è esattamente quello che accade nel loro posto di lavoro? Ecco io credo che ci siamo concentrati così tanto nell'uniti verso l'obiettivo, nel non fermarsi, nella soddisfazione alla fine della salita che ci siamo dimenticati un pezzo fondamentale. Che cosa sta succedendo qui? ci sono delle persone che camminano ma che tipo di relazione c'è tra di loro? Nella migliore delle ipotesi stanno parlando dei fatti loro per distrarsi dalla fatica, nella peggiore si stanno lamentando o soprattutto stanno parlando male di chi c'è prima, di chi c'è dopo e soprattutto di chi c'è avanti. Sta di fatto che in questa salita verso l'obiettivo non ci siamo mai chiesti cosa ce ne facciamo del tratto di strada dopo la partenza e prima dell'arrivo. Che cosa accade in quello spazio e in quel tempo? A luglio del 2020, dopo un corso formativo di cui ero guida, ho sentito un forte desiderio di continuare a crescere, ma anche una profonda solitudine data dal lavoro improprio. Desideravo una compagnia non tanto nelle cose da fare quotidianamente quanto nella possibilità di sentirmi a fianco a qualcuno mentre ciascuno faceva il suo pezzo, un po' come era successo in quel corso di formazione. Così ho chiesto a sei libere professioniste se avevano voglia di creare con me un coworking virtuale, l'avevo chiamato. L'idea era quella di trovarsi ogni settimana per due ore in uno spazio online dove ciascuna potesse portare una fase critica del suo lavoro e le altre potessero dire come la vedevano loro dalla loro zona di osservazione. Per due anni abbiamo ininterrottamente lavorato per creare uno spazio in cui ciascuna potesse portare le proprie domande sapendo che più che una risposta avrebbe ottenuto un'espansione di quelle domande e quindi uno spazio di scoperta di sé. Non mi ero resa conto che quello che stavamo facendo ogni settimana era prenderci cura di quello spazio dopo la partenza e prima dell'arrivo. Quello in cui abbiamo capito avviene la crescita. Ecco allora l'intuizione. La crescita forse non ha a che fare con una spinta individuale ma con uno spazio collettivo, condiviso. Esiste in natura un modo di muoversi in gruppo che segue semplici leggi della fisica. È quello che regola gli stormi di storni. A scuola in fisica facevo abbastanza schifo quindi lascio da parte le formule e tengo solo quello che ci interessa oggi. In estrema sintesi in uno stormo di storni i movimenti si diffondono per propagazione. Questo significa che un esemplare, in gruppo, si muove imitando il movimento di altri sei, sette storni vicino a lui, in una frazione di tempo così impercettibile che il movimento che si genera è incredibilmente armonico. La coesione del gruppo nel caso degli storni rappresenta la possibilità di condividere un grande numero di informazioni rilevanti come la direzione migratoria, i luoghi migliori per l'approvvigionamento del cibo e garantendo calore durante il volo, capacità di confondere i predatori e di reagire attivamente agli stimoli esterni. Sostanzialmente gli storni stanno insieme perché gli conviene, non per creare coreografie nel cielo. Ma qual è la ragione che può tenere insieme uno stormo umano che lavora fianco a fianco ogni giorno o che si trova ogni settimana? Una sola. L'ipotesi, l'intuizione e soprattutto la speranza che là dentro, in quelle relazioni, ci sia lo spazio per scoprire se stessi, per costruire la propria persona. Abbiamo bisogno degli altri per scoprire chi siamo, non perché siano loro a dircelo, ma perché condividano con noi uno spazio fatto di domande e di restituzioni costruttive. Abbiamo bisogno di colleghi che sappiano ampliare il campo visivo e accettare la prospettiva degli altri perché non esiste un solo modo di affrontare un lavoro. Per questo abbiamo bisogno di leader che sappiano ascoltare e fare domande. Ma soprattutto abbiamo bisogno di capi che sappiano creare ogni giorno quello spazio nel mezzo, quello dove avviene la crescita. E ne abbiamo bisogno per una ragione molto semplice, per sentirci parte, per appartenere a uno spazio dove la crescita è un terreno comune. Chi appartiene ad un luogo del genere si muove con coraggio, pieno di iniziativa e senza timore davanti alla solitudine, alle domande che contano. Chi appartiene non ha timore del feedback o del giudizio di chi gli sta di fianco perché sa che quello che viene giudicato è il suo lavoro, non la sua persona. Chi sa di appartenere a un luogo del genere sale su un palco per condividere un'intuizione, forse una possibilità, sapendo che comunque vada quello è un passo per la sua crescita. Gli storni non si chiedono se è il caso di unirsi agli altri o di mantenersi in formazione. Lo fanno e basta e ne vedono la convenienza. A noi cosa manca per fare lo stesso? Ci manca una cosa che è l'origine di tutte le altre, è il primo movimento che propaga tutti gli altri ed è la fiducia. Attenzione però, fidarsi non è un sentimento ma è un processo e una pratica piena di contenuto. Fidarsi nel caso dell'uomo è un movimento intenzionale, è tutt'altro che naturale perché si muove sulla base di un'ipotesi rischiosa e cioè che anche l'altro, come me, desideri crescere e realizzarsi nel lavoro. Vale la pena rischiare. Beh, immaginatevi se nello spazio di lavoro ci fosse questa possibilità di scoperta di sé e ciascuno si potesse mettere al servizio della scoperta dell'altro. Immaginatevi se gli assessment, i team building, le riunioni avessero come obiettivo questa crescita comune. Immaginatevi l'ampiezza della prospettiva che si verrebbe a creare e immaginatevi che tipo di ricchezza verrebbe generata anche fuori dal lavoro, nel tessuto sociale e in ogni situazione in cui abbiamo a che fare con gli altri. Beh, questo è quello che potrebbe accadere. E mentre accade, si muove e si realizza esattamente quello per cui abbiamo creato un'impresa, abbiamo scelto quella strada professionale o abbiamo deciso di lavorare insieme. Mentre ciascuno si muove con fiducia nel movimento dell'altro, scopre e vive quella direzione per cui le persone non scappano dal posto di lavoro ma rimangono in quel movimento. Perché sanno che la strada è sì personale, ma riconoscono che è proprio lì, proprio in quello stormo, che possono continuare a crescere. Grazie.